Vincenzo Andati, presidente uscente di Ascomcommercio. La sede provinciale di Napoli ha commissariato la sede di Pozzuoli affermando che praticamente negli ultimi tempi la sede di Pozzuoli è stata dormiente. Sì, esatto, come appunto dicevi tu. Effettivamente mi viene un attimino da sorridere su questa cosa perché comunque dei casi voi siete i primi testimoni a poter dire o dare il giudizio su quello che la Confomercio di Pozzuoli ha operato fino a poco tempo fa con la mia presidenza perché siamo stati presenti su tutte le problematiche che attanagliano questa cittadinanza su questo territorio, dalle vetrine al piano Deors per quello che riguarda al piano mobilità e viabilità, parcheggi e l'ultima proprio è stata quella lì anche dei pseudo, cioè non dei pseudo, degli ipermercati che devono aprire su Monteruscello i quali saranno un ulteriore danno, creare un ulteriore danno alle attività commerciali sul territorio di Pozzuoli di Monteruscello. Presidente uscente, come ci si sente dopo queste affermazioni da parte della sede provinciale? Lascia sicuramente la mano in bocca per quanto riguarda dopo tutto quello in due mandati che ho fatto io e le responsabilità, gli incontri e tutto quello che ho operato, sentirsi dire queste cose lasciano sicuramente la mano in bocca, anche perché poi ho avuto, come dire, tante telefonate e tanti messaggi di stima sia da parte della politica che dai colleghi degli altri sindacati. Continuerà a far parte anche se non più da Presidente di questa associazione? Sicuramente per quanto riguarda la Reputo o la mia famiglia, io sono nato e sono cresciuto con la Confcommercio e continuerò comunque a difenderla sempre.